Arena Metato sono due località che sono state unite. In Arena troviamo la bellissima Villa del Luca. Metato è la località più grande dove ci sono negozi, servizi e un centro di ortaggi. In Metato segnaliamo la Villa Medicia, detta Villa Lammiraglio. La frazione è composta da nuove abitazioni e solo alcune case conservano lo stile rurale di un tempo.